Buonasera e benvenuti a Motore Salute Tg. Attenzione alla prostata anche prima dei 50 anni. Ipertensione, diabete e colesterolo possono mettere a rischio la salute urologica, ma lo stile di vita può fare la differenza. Infatti lo studio che ha portato questi risultati ha coinvolto oltre 2.400 italiani. I dati raccolti dalla Società Urologica Italiana mostrano che il 10% dei quarantenni ha già i primi sintomi di ipertrofia prostatica benigna, tra cui difficoltà di minzione e disfunzioni sessuali. I dati raccolti infatti confermano che l'aumento del volume della prostata è chiaramente associato agli stili di vita scorretti. La buona notizia è che nei giovani l'esercizio fisico costante è più efficace e riduce il rischio di ammalarsi fino al 40%. Il collirio di Rita Levi Montalcini arriva ai pazienti italiani. Curerà una malattia rara che può portare a cecità. È stato infatti dato il via libera in Italia dal farmaco del premio Nobel. In gazzetta ufficiale è stata autorizzata la commercializzazione del principio attivo Cene Germin per la cura della cheratite neurotrofica moderata o grave. Questa è una malattia rara e invalidante dell'occhio, a oggi orfana ancora di trattamento. Finora non esistevano in commercio terapie soddisfacenti per curare questa patologia, che provocava una progressiva perdita della visione a causa di una rapida degenerazione della cornea legata a un danno al nervo trigemino. Adesso sembra invece si sia trovata una possibile cura.